ciao ragazzi oggi provo ad andare a funghi nel monte baldo fino adesso qua non ho mai trovato nulla ma oggi finalmente sono appena entrato e guardate qua che bellezza un bellissimo forcino vediamo non lo vedo più eccolo qua eccolo qua ok finalmente anche qui abbiamo trovato i forcini ciao 5 metri più in là guardate qua guarda 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 ops eccolo qua mamma mia che bello sembra che oggi sia la giornata giusta un po mangiato dalle lumache ma qua se ce n'è un altro qua di solito crescono no sembra di no a dopo ciao e qui che porcino oggi è una giornata bellissima attenzione scroc guardate sapevo che c'era ciao sempre monte baldo stavo girando e dopo un bel po che cammino finalmente un altro eccolo qui guardate ciao speriamo a dopo ancora monte baldo dopo gli statini finalmente il primo eduris ma mi sa che questo è l'ultimo che vediamo oh c'è che ha il gambo vabbè vedete la caglia del gambo bellissima speriamo di sentirci ancora ciao ho nascosto un po' fin là sotto po' fin là sotto dopo e di vederci a dopo ciao ancora montebaldo pensavo di non trovarne più perché ormai mi sto dirigendo verso la macchina quando guardate qui uno e l'altro il fratello a questo punto ha visto il terzo guardate guardate attenzione il terzo guardate la strada e subito qua i porcini guardate uno due tre e quattro ciao sempre andando la macchina 10 metri 15 più avanti ecco qua una doppia a dopo Oh.